Nel marzo del 1997 arrivò nell'edicole italiane un nuovo magazine sperimentale, ideato dalla redazione di Topolino. Sto parlando di Ridi Topolino. La rivista, che era gestita da Massimo Marconi e Tito Faraci, era progettata per far letteralmente scompisciare dal ridere i lettori. Obiettivo che devo dire, avendo letto praticamente tutti i volumi usciti, che fu decisamente centrato. Il sommario vedeva la ristampa di una storia spesso e volentieri italiana, quella aggiunta poi di altre storie per lo più tratte dalla vasta produzione brasiliana. Attenzione rispetto a quanto ho detto in altri video, che la comicità brasiliana non mi interessava molto. In realtà quando questa veniva applicata a personaggi come Giuseppe Carioca, oppure ai papei, in particolare Paperoga, il risultato era decisamente molto diverso. Inoltre c'erano un sacco di redazionali, nel senso che Faraci e Marconi si preoccupavano di riempire la rivista con articoli farlocchi e barzellette e il tutto portava decisamente il lettore a scompisciarsi dalle chissate. Inoltre, come più o meno d'uso per quasi tutte le riviste disneyane dell'epoca, c'era anche una storia inedita, che ovviamente era scritta dallo stesso titolo Faraci e vedeva i disegni Giuseppe Ferrari. La copertina e la prima pagina, una reinterpretazione in termini comici di un grande classico del cinema, erano invece realizzate da Carlo Limido. Qualcosa come venti anni più tardi, Ridi Topolino venne ripescato dal dimenticatoio. Ciò avvenne nel periodo piuttosto breve di collaborazione tra Topolino e Sio. L'occasione era particolarmente ghiotta, visto che Sio aveva detto in varie occasioni che per la sua comicità si era ispirato proprio al Ridi Topolino di Faraci. Non a caso infatti fu Faraci a portare Sio su Topolino. A quel punto uscirono fuori un paio di albi celebrativi di Ridi Topolino, in particolare le grandi storie di Ridi Topolino, dove vengono ristampate le storie scritte da Faraci per la rivista, e poi una serie di albetti dal titolo Ridi Paperona. In entrambi i casi c'è stata la collaborazione con Sio, che ovviamente ha realizzato i suoi soliti sketch divertenti, e soprattutto con Ridi Paperoga non poteva mancare la collaborazione con Enrico Faccini, che tra gli autori italiani attualmente a lavoro sul Topolino è indubbiamente quello in grado di interpretare Paperoga nel modo migliore possibile. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per riceverle notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa serie collezionistica. Saluti a tutti!